Qual è il messaggio per una giornata come quella di oggi? La Presidente dell'Ampia ha detto che è una seconda resistenza quella che stiamo vivendo in un certo senso. Ma mai come oggi la democrazia, la libertà e il valore della tolleranza vanno difesi perché per troppi anni abbiamo ritenuto acquisito, conquiste acquisite la democrazia e la libertà. Al contrario ci sono sia nella società anche nella politica ritorni autoritari, alcune teorie autoritarie e credo che dobbiamo tornare a promuovere questi valori. E oggi abbiamo una festa, la festa della liberazione di Arezzo dall'oppressione nazifascista. Allora dobbiamo prendere spunto da oggi per tornare a promuovere con i giovani, per i giovani, insieme alla scuola, all'università questi momenti affinché la memoria ci serva per ridurre la possibilità che si possano ripetere. Perché essere qua oggi come candidato sindaco? Insomma oggi questo è il suo ruolo. Soprattutto ci sono come cittadino di questa città che onora una storia e una giornata molto importante. Oggi però liberazione significa soprattutto la necessità che questa città trovi le condizioni per ripartire. Arezzo ha meno 27% di produzione industriale, è una delle città che soffre più la crisi che abbiamo vissuto, l'emergenza sanitaria. Dobbiamo creare anche una nuova identità che consenta di trovare nuovi posti di lavoro, è necessario ripensare questo giorno come un giorno di liberazione dalle difficoltà che andremo a vivere nei prossimi mesi e su cui ogni sforzo dovrà essere messo in campo per raggiungere una nuova identità, un nuovo modello di sviluppo.